Ciao! Oggi parliamo di come uscire dall'alcolismo e questa è la seconda parte del video. Ti lascio proprio qua in alto il link alla prima parte. Allora, iniziamo subito. Il primo passo. Il primo passo è prendere la decisione a livello consapevole di smettere di bere. La maggior parte di noi non prendono questa decisione a livello consapevole, ma pensano solo che sia un qualcosa che devono fare e che richiede la loro forza di volontà. Ma la forza di volontà è richiesta quando hai il desiderio di fare qualcosa. Quindi è importante prendere proprio questa decisione. E anche se molti opporranno resistenza, è fondamentale riconoscere che l'alcol è tossico, è come una droga e le conseguenze negative dell'abuso di alcol sono maggiori rispetto ai benefici che se ne potrebbero trarre. Per esempio potrebbe esserci quello studio relativo all'effetto antiossidante del resveratrolo contenuto nella buccia d'uva, però anche lì quello studio è stato condotto su delle persone che tutti i giorni bevevano vino rosso. Quindi le persone che tutti i giorni hanno la possibilità di bere vino rosso molto probabilmente hanno anche un certo tipo di entrate, fanno parte di un certo strato socio-economico della società, quindi sono persone istruite che magari sanno cosa è meglio mangiare e cosa no per avere una vita longeva, magari sanno anche che cosa sono le blue zone nel pianeta. E quindi bisogna davvero mettere sui piatti della bilancia da una parte i benefici e dall'altra gli svantaggi e in ogni caso se il resveratrolo ha questo effetto antiossidante basterebbe bere un estratto d'uva invece che rischiare di incorrere nell'abuso di alcol. Anche il tabacco era comandato tempo addietro. Quindi per concludere è importante prendere questa decisione a livello consapevole. Secondo punto, accetta che non sei assolutamente privo di potere. Allora, esiste il libero arbitrio, cioè sei responsabile di tutto ciò che dici, che pensi e che fai. E in questo momento se sei un alcolista oppure se sei un dipendente non stai utilizzando il libero arbitrio, ma sei in preda del determinismo. Che cos'è il determinismo? Il determinismo significa che ci sono dentro di te dei traumi irrisolti che poi col passare del tempo si sono trasformati in pattern, cioè in meccanismi automatici. Quindi è molto importante essere consapevoli del fatto che esiste il libero arbitrio, quindi che sei responsabile di quello che dici, che fai e che pensi e che essere responsabile significa che puoi cambiare queste cose, no? E il terzo punto è che l'unico vero modo per risolvere l'alcolismo è affrontare la sofferenza che stai cercando di alleviare col bere. Allora, l'alcolismo, cioè il problema con l'alcolismo è che molto spesso viene trattato come una malattia e come un disturbo quando non dovrebbe essere trattato in questo modo. Guardate per esempio il programma dei 12 passi, no? Che incoraggia l'astinenza perché sostiene che tu sei privo di potere. Ma se io ti dicessi che affrontando il dolore, affrontando la sofferenza, tu non avresti nemmeno in partenza il desiderio di bere? Quindi l'alcolismo dovrebbe essere trattato come un sintomo, non come la causa, perché la causa è il dolore e la sofferenza che stai cercando di alleviare. L'alcolismo poi è il sintomo, no? E quarto punto, per guarire quel dolore, no? Devi entrare in contatto col dolore proprio profondamente e possibilmente con l'aiuto di un professionista. Perché? Perché affrontare gli effetti fisiologici comunque fisici anche dell'uscire da una dipendenza è veramente difficile da soli. E questo è il momento per focalizzarsi sulle ferite originarie e come si fa a facilitare il fatto che tu entri in contatto con le tue ferite astenendosi dal bere. Perché se ti astieni dal bere è molto più facile per te comunicare con il professionista e arrivare a contatto di quelle ferite. Perché ovviamente se bevi poi, come posso dire, offuschi mi viene, no? Cioè nascondi queste ferite. Quindi questo è proprio il momento ideale per astenersi dal bere. E quindi il tasso, diciamo, di insuccesso dei centri di riabilitazione è dovuto al fatto che si focalizzano poco su queste ferite, su queste ferite originarie, quindi su questo dolore, no? Che è la causa dell'alcolismo. E la radice, quinto punto, la radice è il non sentirsi al sicuro all'interno delle relazioni umane. Quindi il tuo obiettivo della vita proprio, la tua priorità, dovrà essere imparare a costruire delle relazioni in cui tu ti senti al sicuro. Perché molto probabilmente se sei un alcolista in questo momento non hai relazioni in cui ti senti al sicuro. Magari sei una persona inaffidabile, quindi le persone faranno fatica a riporre la fiducia, la loro fiducia su di te, potrebbe anche essere che la maggior parte delle persone con cui hai una relazione siano persone che potrebbe rivelarsi opportuno eliminare dalla tua vita perché magari sono persone tossiche. Quindi è proprio un'abilità che bisogna ricostruire, perché non hai mai imparato come si intrattiene un rapporto sano, un rapporto interpersonale in cui entrambe le parti si sentono al sicuro. E ti lascio qui sopra il link a un video che ho fatto sull'intimità non intesa come sesso o cose strane, proprio l'intimità tra due persone e come si costruisce diciamo. E quindi il sesto punto, la percezione che tu hai inconscia del fatto che non sia possibile per te creare delle relazioni in cui ti puoi sentire al sicuro è totalmente falsa. Nella tua infanzia c'è stata una disfunzione, no? Cioè nel senso, quando provavi determinate emozioni o avevi determinati bisogni, determinati desideri, questi venivano invalidati. Cioè non potevi provarli, non potevi averli. E qual era il meccanismo? Cioè i caregiver, quindi chi si prendeva cura di te, non ti permetteva di provare certe emozioni, certi bisogni. E quindi il messaggio che ha passato, cioè oltre a non permetterti di provare questo, ha preso delle decisioni non per il tuo bene, magari senza neanche sapere di farlo, ma questo ti ha fatto provare dolore, quindi tu hai reagito, hai reagito creando problemi, ma alla fine il problema erano loro che avevano creato questa cosa o tu che avevi creato problemi? Tu. Quindi il messaggio che è passato è stato io posso colpirti, posso farti del male e tu non puoi reagire, anzi devi ringraziarmi e non puoi creare problemi perché se li crei io farò in modo che diventi tu il problema. Questo che cosa ha creato? Ha creato il fatto che poi ti sei trasformato in una persona codipendente, cioè hai messo da parte i tuoi bisogni, i tuoi sentimenti, i tuoi desideri perché erano sempre in conflitto con le altre persone, hai perso la tua identità, hai perso la tua identità per il bene, cioè per sopravvivere, per continuare a mantenere delle relazioni interpersonali, quindi sei diventato codipendente, che cos'è una persona codipendente? Per chi non lo sapesse è una persona caratterizzata da dei bassi livelli di autostima, una persona che fa fatica a riconoscere i suoi confini, fatica a riconoscere la sua individualità, i suoi bisogni, persiste nel preoccuparsi sempre dei bisogni dell'altro a discapito dei suoi, questa è la persona codipendente. In ogni caso, se tu invece non avessi messo da parte o represso i tuoi bisogni, i tuoi sentimenti, i desideri, ma avessi fatto il contrario, saresti stato il caprio espiatorio della tua famiglia. In entrambi i casi, il messaggio che è passato è che tu non eri libero di essere te stesso, no? Quindi la domanda importante da farsi è che cosa sto cercando di eliminare dentro di me con l'alcol? Cioè quali sono i miei bisogni, quali sono le emozioni, i desideri che sto cercando di nascondere bevendo? Questa è una domanda che è importante farsi e riflettere sulla risposta di questa domanda. Settimo punto, è importante utilizzare un approccio olistico, cioè non solo cognitivo e emotivo, ma anche fisico. Quindi, per esempio, provare tutto quello che vi viene in mente, che potrebbe essere meditazione, yoga, attività fisica, pulizia del fegato, il cambiamento delle vostre abitudini alimentari, workshop sulle relazioni. Cioè proprio avere un approccio olistico, perché più sono le strade, diciamo, con cui affrontiamo questa dipendenza, maggiore è la probabilità che riusciamo ad uscirne il più in fretta possibile e siamo proprio facilitati se utilizziamo un approccio olistico e non solo, per esempio, un approccio cognitivo, no? E ricordati che se sei un alcolista o se sei dipendente, non sei né cattivo né sbagliato. Quindi non c'è alcuna ragione per provare vergogna. E ci vediamo al prossimo video.